Dopo Alice il Sardon fatto di bottiglie di plastica prosegue l'impegno della Barcolana nella lotta all'inquinamento da plastica nei mari del mondo. Quest'anno la mission lega il messaggio ambientale con l'arte nella mostra itinerante Plasticocene inaugurata la centrale idrodinamica del Porto Vecchio. Sì, da anni Barcolana è attenta alla tutela del mare e quest'anno proseguiamo sulla strada, sulla rotta, verrebbe da dire, che abbiamo iniziato l'anno scorso col Sardon che aveva fatto bella mostra di sé in Piazza Unità. Quest'anno c'è un ulteriore approfondimento, una mostra realizzata da Elisabetta Milan insieme al WWF, la regione Friulenezia Giulia, dedicata proprio agli effetti dei comportamenti scorretti degli uomini sul mare. Quest'estate mi è capitato di navigare per il mare Adriatico e ho visto la quantità di meduse che si trovano nel mare. Si parla di un mare gelatinoso ormai, tutti i triestini avranno visto nel nostro golfo tante meduse, le noci di mare. Queste finiscono per mangiare le uova dei pesci, abbiamo sempre meno sardoni e pesce azzurro. Quindi si chiude un cerchio iniziato l'anno scorso con il sardon di plastica per dire che avremo sempre meno sardoni nel nostro mare se continueremo a gettare le plastiche, se continueremo a inquinare il nostro mare. La mostra è a cura di Elisabetta Milan che ha tradotto in quattro installazioni le problematiche che collegano lo scorretto utilizzo della plastica e le conseguenze per l'ambiente marino. Il messaggio è rivolto ai futuri cittadini del mondo, quindi soprattutto ai bambini e ai giovani ed è un messaggio di speranza. Siamo ancora in tempo per invertire la rotta, la tendenza e far sì che nel 2050 non ci sia più plastica che pesci nei nostri mari. Quattro le opere in esposizione, una canoa come un varco verso una visione ecosostenibile del mondo che naviga sulle macroplastiche che inquinano i mari dei paesi in via di sviluppo. Poi una trama di fili e matasse di polipropilene azzurro che la chiude come fossero onde del mare, oggetti di plastica della nostra vita quotidiana e al centro un'urna accineraria in vetro con all'interno una carta di credito del peso di 5 grammi, ovvero il quantitativo di plastica che ogni individuo ingerisce ogni settimana. E ancora un fossile del futuro, un nautilus con impresse e le impronte di quegli strumenti monouso che nella nostra vita hanno solo pochi secondi di utilizzo. Infine il simbolo dell'esposizione, la medusa aliena che invade i nostri mari, l'emblema del mare gelatinoso che rischia di far sparire ogni giorno di più i nostri amati pesci.